Ciao! Il trucco che voglio realizzare oggi è proprio questo qui, che vi avevo promesso la scorsa volta, scorsa settimana quando io ho fatto il video, sull'importanza dei cosmetici naturali. Praticamente per realizzare questo look nude, infatti ho utilizzato i colori nei toni naturali del marrone, del nero, del beige, che sono per l'appunto anche i miei colori, quelli della mia pelle, dei miei capelli. Ma penso che sia anche un look molto adatto a chi è bionda con gli occhi chiari, perché rimane comunque in una nuance naturale appunto. Ho utilizzato la paletta della Deve Cosmetics, elegantissimi, della linea Arcobaleni, che è questa qui. Ci sono tutti i colori nude look, che servono anche per poter realizzare uno smokey eyes. anche per le labbra io ho utilizzato un rossetto molto naturale, che enfatizza la loro forma. Vi lascio il tutorial. La base è già pronta e un occhio già truccato. Per la base ho utilizzato la BB cream della Sobio Etic e il correttore della stessa marca. Poi ho opacizzato il viso usando un fondotinta minerale che ho realizzato io. Comunque in commercio ce ne sono tantissimi, li trovate anche a dei buoni prezzi. Basta che abbiano il marchio bio comunque, perché se non hanno quello, spesso trovate nelle profumerie dei fondotinta che contengono paraffine e siliconi, anche se sono definiti minerali e sono i principali ingredienti che vanno a causare punti neri e brufoli. Allora, iniziamo a truccare l'altro occhio. Prima di tutto metto la base per un ombretto. Io la preferisco di colore bianco, anche perché ho una pelle mediamente scura e quindi risalta molto di più l'ombretto. Se avete una pelle più chiara potete benissimo utilizzare un correttore di colore chiaro. Vado a sfumarla bene con le dita e procedo all'applicazione dell'ombretto. Utilizzo un pennello a lingua di gatto e prendo la mia paletta, elegantissimi. Vado a prendere il colore bianco, il primo della paletta, questo qui. E lo applico proprio all'inizio dell'occhio, qui e sotto. Poco poco. Poi, sempre con un pennello a lingua di gatto, vado a prendere questo marrone. Se avete la pelle chiara preferite quest'altro, che è un po' più chiaro. Sui miei occhi si vede poco. E lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. Tralasciando ovviamente dove ho messo il bianco. Un altro po'. Così. Poi prendo questo pennello da sfumatura e questo colore scuro, un marrone scuro. E lo metto qui, alla fine dell'occhio e traccio il contorno che divide la palpebra mobile da questa zona. Più mi sposto verso l'esterno, più ottengo l'effetto occhi allungati. Questo trucco serve anche ad ingrandire gli occhi, oltre che a renderli più evidenti. sempre con il marrone scuro. Questo pennello vado a prenderne un po' e traccio una linea sotto l'occhio con l'intento di unire le ciglia. Sotto l'arcata sopraccigliare applico questo colore che è un rosa pallido rosa carne. Qui lo chiama butterfly. e lo applico qui. Pennello da sfumatura vado a sfumare bene bene tutto il mio lavoro. piegaciglia applico il mascara il mio preferito Lash Alert di Lily Lollo e lo applico sia sopra che sotto non vi ammazzate gli occhi. l'ultimo tocco sull'occhio è la matita bianca all'interno della congiuntiva io uso il Kajal Natura della Benecos usando il bianco usando il bianco l'occhio sembrerà molto più grande gli occhi sono completi adesso andiamo a truccare il resto del viso quindi quindi vado a prendere il blush io ne utilizzo uno minerale che ho fatto io stessa perché ho un piccolo laboratorio a casa tipo una piccola straghetta e comunque ne potete trovare tantissimi in commercio di questi minerali il colore è così mi sta finendo devo andare a farlo è tipo un aranciato tendente al rosso sorridiamo e lo applichiamo soltanto in questa zona qui facciamo la stessa cosa con l'altra guancia facciamo la stessa cosa con l'altra guancia ecco adesso applichiamo il rossetto tracciamo un contorno delle labbra con la mineral lip liner della Elf colore Raisin tracciatelo bello grossolano anche l'effetto delle labbra che voglio realizzare è quello di ingrandirle renderle evidenti ma lasciarle sempre di una nuance naturale infatti utilizzo un rossetto che è Nude Look Pink Honey della Benecos il look è completo spero che vi piaccia commentate lasciatemi tanti tanti commenti vi saluto alla prossima ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti